La visita per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della cute comincia con la valutazione di tutta la cute esposta, possibilmente anche delle mucose dei genitali del paziente. L'esame accurato e l'esperienza di chi le visita evidenzia eventualmente delle lesioni cutanee che vanno indagate con altro modo e questo altro modo è la dermatoscopia come andiamo a vedere. Questa è la strumentazione che serve per la diagnosi precoce dei tumori maligni della pelle. È molto semplice ma deve essere supportata soprattutto da una grande esperienza. Adesso vediamo che cosa vede l'occhio e che cosa vede il microscopio. La visita per la diagnosi precoce dei tumori della pelle e per l'eventuale prevenzione consiste prima di tutto in un esame globale dello stato di salute della pelle, in questo caso della paziente. L'esperienza di chi visita deve individuare delle eventuali lesioni che possono essere sospette. Le lesioni sospette vanno accuratamente viste e questa visione può essere fatta sia da una lente a grande ingrandimento che anche questa seleziona un'ulteriore lesione da valutare, sia con il dermatoscopio che uno strumento che ingrandisce fino a 20-30 volte le lesioni cutanee. Questa valutazione ci permette in base a dei criteri ormai standardizzati di decidere se una lesione cutanea debba essere asportata o debba essere sottocontrollata o debba essere valutata a distanza di tempo. Con questa semplice metodica, oltre a poter conservare l'immagine, la si può studiare anche a distanza di tempo, se ne può studiare i colori, le caratteristiche di partner, le dimensioni e la struttura. Si possono vedere i cambiamenti che eventualmente avvengono a distanza di tempo. Questa è la prevenzione della comparsa di tumori della pelle. L'eventuale sospetto clinico o strumentale ci induce a fare una biopsia di questa lesione. I tumori della pelle hanno solo diagnosi visiva, macroscopica o microscopica, ma non esistono strumenti, oltre al dermatoscopio, capaci di fare diagnosi.